Buonasera a tutti e grazie per essere qui questa sera a partecipare a questo webinar nel quale parleremo di Internet of Things e in particolare di come aggiungere valore ai prodotti utilizzando l'interconnessione. La prima cosa che mi viene in mente è che oggi tutti noi sentiamo parlare di Internet of Things, Internet delle cose, ma quando andiamo a sentire convegni, quando andiamo a parlare con Cisco, con IBM, con questi tipi di provider, le uniche o sempre più spesso le informazioni principali che ci vengono date sono relative ai protocolli da utilizzare, lo scambio di informazioni, dove mettere cloud, tutte queste cose qua. In realtà io penso che il problema principale sia quello di capire come creare valore utilizzando l'interconnessione dei prodotti. slide di consigli iniziali, allora torno indietro, quindi se qualcuno ha la linea particolarmente lenta può bloccare il video e può seguire soltanto l'audio, basta mettere in pausa come si fa normalmente con YouTube eccetera il video, l'audio proseguirà. Se qualcuno viene, diciamo, per qualsiasi motivo disconnesso o esce dall'aula, basta ripetere la procedura di accesso e si rientra automaticamente in questa stanza. E ultima, più importante, sono delle domande, osservazioni eccetera che diciamo potrete fare via chat, vi sollecito, vi chiedo insomma di farmi delle domande e io cercherò di rispondere. Durante il webinar faremo anche due velocissimi sondaggi per raccogliere un po' le vostre opinioni. Ecco, a questo punto torno indietro, eravamo rimasti al discorso che l'intra delle cose sempre di più quando se ne parla al giorno d'oggi si sente parlare diciamo di protocolli, di cloud, di informazioni, di prodotti, di programmi eccetera, ma in realtà dietro c'è molto di più ed è qualcosa che probabilmente viene anche prima dei protocolli. Dietro c'è un importante cambio di paradigma per quello che riguarda il prodotto. Prendiamo ad esempio una lampada che diciamo fino a ieri era un oggetto assolutamente scollegato da qualsiasi altra cosa autocontenuto in se stesso, ignorante di qualsiasi cosa lo circondasse e anche del proprio stato di se stesso. Mentre oggi sempre più lampade sono diventate in qualche modo smart e quindi oltre ad essere diciamo comandate dal classico interruttore come quelle di una volta possono collegarsi a internet e quindi poi possono essere collegate col telefonino, possono parlare, possono mandare informazioni e ricevere informazioni attraverso internet o attraverso dei protocolli, dei sistemi di comunicazione locale. Quindi ad oggi una lampada, ma parliamo di lampada, ma vale per qualsiasi oggetto, una lampada o un qualsiasi oggetto può comunicare con tutti i prodotti che gli stanno intorno, può comunicare con il proprio utilizzatore anche se questi è in remoto via telefonino e può comunicare con l'azienda che l'ha prodotto o con un'azienda terza che faccia da fornitore di servizi legati direttamente all'utilizzo di quel prodotto. Quindi capite che il modello che abbiamo in testa dei prodotti cambia radicalmente. La lampada può parlare, la lampada può essere con me quando io sono lontano da lei attraverso il telefonino, la lampada può parlare con chi l'ha costruita o con chi mi fornisce dei servizi. Questo è un cambiamento assolutamente importante e che sarà probabilmente una delle più importanti aree di innovazione nei prossimi anni per moltissimi prodotti. In generale quando si parla di internet delle cose si parla di prodotti interconnessi e si parla anche di prodotti intelligenti. Perché? Perché quando un prodotto è connesso a internet tramite questa connessione ha la possibilità di avere capacità di elaborare informazioni e potenzialmente una capacità infinita perché le elaborazioni possono essere fatte dal web e il prodotto può solo ricevere i risultati. Vediamo quindi quali sono le caratteristiche principali che rendono intelligente un prodotto, che rendono un prodotto normale lo rendono smart. Oggi si parla molto di smart product. Allora per prima cosa un prodotto intelligente ha una propria identità, quindi è capace di identificarsi, ha un proprio nome e cognome con il quale gli altri prodotti lo possono chiamare. Poi il prodotto intelligente conosce il proprio stato, quindi sa se è attivo, se viene utilizzato in un certo modo, se è spento eccetera. Quindi conosce il proprio stato. Conosce il contesto in cui sta lavorando, sta operando, quindi sa quali altri prodotti lo circondano sia in senso fisico sia in senso virtuale attraverso il web. Sa a quali informazioni può accedere attraverso il web e sa raccogliere delle informazioni localmente, tramite sensori normalmente, o tramite interrogazioni di altri prodotti che sono presenti vicino a lui. Ha a bordo o in remoto, come dicevamo prima, la capacità di elaborare informazioni e una volta che la capacità di elaborare informazioni diventi sufficientemente evoluta e potente, il prodotto può anche imparare. Quindi può essere in grado di modificare il proprio comportamento, di adattarsi all'utilizzo che viene fatto, di capire che cosa l'utilizzatore vuole fare e quali sono le sue abitudini. Faccio una piccola parentesi sul discorso dell'imparare perché è una cosa molto importante nella competizione, nel mercato competitivo che c'è oggi. Quando un prodotto impara, l'utente non ha bisogno di configurarlo innanzitutto e diciamo la convivenza, il fatto che il prodotto venga utilizzato per ore, giorni, settimane, settimane da una persona, costruisce in qualche modo, è brutto dirlo in questo così, ma costruisce in qualche modo un rapporto tra la persona e il prodotto perché il prodotto ha imparato ad adattarsi alle esigenze della persona. Allora cosa succede? Che nel momento in cui il prodotto diventa vecchio, obsoleto, si rompe, la persona tenderà ad acquistare un prodotto che possa riutilizzare l'esperienza fatta con la versione precedente del prodotto per non dover ripassare attraverso tutto questo processo di apprendimento e di costruzione del rapporto. Quindi un prodotto che impara è un ottimo metodo per legare a sé, sto parlando dal punto di vista del produttore dei prodotti, per legare a sé i propri clienti perché si accumula, il produttore accumula un'importante esperienza su come loro utilizzano i prodotti. Ok, chiusa la parentesi sull'imparare. Abbiamo detto gli smart product, sanno chi sono, conoscono il proprio stato, conoscono il contesto, raccolgono informazioni, le elaborano, sanno imparare, normalmente sanno eseguire dei compiti, quindi hanno degli attuatori, hanno della possibilità di eseguire azioni e possono comunicare normalmente con strumenti, protocolli e mezzi di comunicazione diversi, sia con gli utilizzatori che con altri prodotti che con la rete in generale e con l'ambiente che li circonda. A questo punto, prima di entrare in ulteriori dettagli sulla presentazione dell'internet delle cose, volevo avviare il sondaggio. Quindi la domanda è un po' per capire quanti di voi hanno già pensato di realizzare prodotti con l'internet delle cose, quanti stanno già sviluppando, quanti invece stanno sviluppando prodotti, quanti invece li hanno già fatti. Quindi le domande le vedete, le risposte, vi prego di segnare proprio sullo schermo, di cliccare una delle scelte possibili, così vediamo quanti di voi sono già avanti su questa strada e quanti ancora no. Quello che vedo io nella mia esperienza di consulente è che la richiesta o l'attenzione a questo tema diciamo alla realizzazione di prodotti interconnessi e intelligenti sta crescendo moltissimo negli ultimi anni da parte sia di aziende grandi ma anche da parte di aziende piccole. Allora ho i risultati del sondaggio che ovviamente non ha un valore statistico, visto il numero di persone che è limitato, il 13% ha già realizzato prodotti interconnessi e il 13% li sta sviluppando. 30% sta pensando a prodotti interconnessi e quasi metà, il 43%, non ha ancora affrontato questo argomento. E' chiaro che ci sono settori dove l'intra delle cose è più avanti ed è più richiesto, altri dove è più indietro, quindi non mi stupisce che ci siano aziende che ancora non hanno affrontato questo argomento. Quello che io credo però è che piano piano tutti i settori, anche non troppo piano in realtà, tutti i settori verranno coinvolti in questo. Parlavo qualche giorno fa con un costruttore di mobili e lui diceva che la loro strategia per i prossimi anni è quella di potenziare e sviluppare l'internet delle cose, che sembra abbastanza strano per chi produce tavoli, sedie eccetera, eppure questa è una delle... è il futuro per questa azienda, ma non solo per quella. Ok, sondaggio chiuso, proseguiamo. La cosa interessante diciamo di questo dell'internet delle cose è che si apre un mondo nuovo che è quello che viene chiamato il comportamento sociale degli oggetti, perché gli oggetti intelligenti oggi riescono appunto a collaborare con altri oggetti e con le persone, eventualmente anche con gli animali domestici. Quindi i prodotti, ribadisco questo concetto, non sono più qualcosa di stupido e rinchiuso in se stesso, ma sono membri, sono parti di un ecosistema e torneremo su questo. Come parti di un ecosistema, loro inviano e ricevono informazioni, inviano richieste ed eseguono richieste. Ovviamente ne saremo coinvolti tutti perché diciamo questo bisogno di interconnessione e di intelligenza è un bisogno primario fondamentalmente, è importante tanto quanto, forse anche di più, il bisogno di comunicare, quindi di avere il cellulare. Quindi l'internet delle cose è un territorio in cui c'è ancora molta parte non esplorata di opportunità, di funzioni che si possono fare. La tecnologia ormai è disponibile e quindi c'è spazio per differenziarsi dai concorrenti e per sviluppare innovazione. Come dicevamo all'inizio ci sono una serie di problemi tecnici da risolvere, protocolli, elettronica, la privacy, gli hacker eccetera, che ovviamente sono problemi importanti, non è che sto sottovalutandoli diciamo. Però nella mia testa questi problemi vengono dopo. Le prime domande che un'azienda normalmente si fa è come posso creare valore per i miei clienti mediante l'interconnessione dei prodotti e la seconda è con quale modello di business posso proporre al mercato questa innovazione. perché ovviamente, lo sappiamo tutti, l'internet delle cose richiede spesso o quantomeno propone alle aziende un cambiamento del modello di business. Questo lo riprendiamo dopo perché è un punto importante. Allora vediamo un metodo, un processo che noi di Open Innovation abbiamo sperimentato con diverse aziende ormai per creare valore mediante l'interconnessione. Noi normalmente utilizziamo questi quattro passi fondamentali. Allora il primo passo è quello di identificare l'ecosistema nel quale il prodotto andrà ad operare. Il secondo passo è la progettazione della user experience, quindi cominciare a vedere come i clienti utilizzeranno il prodotto domani. Terzo passo, assolutamente importante, come definire il nuovo business model per questo tipo di prodotto. L'ultimo passo è di costruire una roadmap perché tutto questo non potrà avvenire da un momento all'altro o con un solo progetto. Probabilmente saranno necessari anni e quando si parte con questo si inizia un cammino e quindi bisogna avere una roadmap. Qui ha una domanda da Luca che dice la comodità, l'internet delle cose eccetera, ma qualcuno pensa all'inquinamento elettromagnetico? Ad esempio ad un bimbo fa bene stare in una casa con un wifi acceso tutto il giorno? Allora la vera risposta è che non lo sappiamo ancora, sembra che le onde comunque abbiano diciamo meno potenza rispetto a quella per esempio dei telefonini eccetera, però la risposta in realtà non la sappiamo. Io su questo non voglio dare una risposta se fa bene o se fa male, nel senso che in questo caso mi pongo come agnostico, diciamo io vedo che questo è un fenomeno che sta avvenendo dal quale probabilmente non riusciremo a sfuggire perché anche se diciamo non compriamo noi il wifi in casa ce l'hanno probabilmente tutti i vicini quindi sì direi dal punto di vista aziendale, dal punto di vista mio lo considero come un dato di fatto da accettare ecco questa domanda è una domanda per la quale non abbiamo comunque una risposta ancora definitiva. Torniamo ai quattro passi, il primo dei passi quindi è quello di identificare l'ecosistema, qui entriamo proprio nel metodo pratico che noi utilizziamo normalmente con le aziende per iniziare a definire se e come si può creare valore con l'internet delle cose. Allora, l'ecosistema di riferimento, questo è un esempio di un caso reale di un'azienda che produce riuniti per i dentisti e il primo passo che abbiamo fatto con loro è stato quello di capire quali fossero i luoghi, gli oggetti, i prodotti e le persone che costituivano il contesto di riferimento, l'ecosistema di riferimento. Allora, entriamo un attimino nel dettaglio per capire come funziona questo metodo. Allora, al centro sicuramente c'è lo studio dove il, dove il, scusate che non riesco a muovere qui il mouse, eccolo qua, al centro c'è lo studio dove il riunito si trova. In realtà poi, diciamo, in fianco allo studio c'è anche la sala d'attesa, c'è la reception del dentista, c'è eventualmente il magazzino, la sala sterilizzazione, quindi qui siamo dentro l'edificio e all'interno di questo edificio ci sono una serie di prodotti o di sistemi, perché ad esempio insieme al riunito c'è sicuramente il sistema di illuminazione, il sistema di climatizzazione, il sistema per la musica, l'entertainment, la macchina fotografica, la telecamera, il sistema per l'ortopantomografia, gli strumenti chirurgici, quindi ci sono tutta una serie di prodotti, di oggetti che potrebbero in teoria parlare con il riunito. Però, appunto, questo è l'ecosistema, quindi quello che è dentro le mura del dentista. In realtà poi ci sono anche elementi esterni, perché potrebbe esserci un laboratorio universitario refertante, per esempio, che mi dice, che mi legge le lastre, il laboratorio odonto tecnico che mi costruisce le protesi, l'assistenza al riunito, la clinica universitaria per consulenze particolari, eventualmente le assicurazioni che potrebbero in qualche modo essere interessate a sapere cosa sta succedendo dal dentista, la casa del dentista, l'auto del dentista, altri studi. Quindi, il contesto nel quale il riunito si pone è molto ampio e molto vario. Le persone sono molte, ci sono i dentisti, i pazienti, gli assistenti, l'igienista, il receptionist, il paziente successivo, gli ispettori, eccetera, eccetera, i tecnici IT e via così. Quindi ci sono molte persone che girano intorno allo studio del dentista, in particolare intorno al riunito. Ecco, farsi un primo quadro di questo è importante poi per capire quali sono le opportunità per creare valore attraverso l'interconnessione, perché magari noi potremmo creare valore dal riunito alla receptionist, oppure dal riunito alle assicurazioni e quindi creiamo un valore che magari può modificare un modello di business. Quindi, passo 1, capire qual è l'ecosistema di riferimento, quindi quali sono i luoghi, quali sono gli oggetti, i prodotti e quali sono le persone che in qualche modo possono entrare in contatto con il prodotto. Passo 2, cominciare a vedere in maniera un pochino più dettagliata quali sono le informazioni che passano attraverso un riunito. Infatti, nel mondo dell'internet delle cose, ogni prodotto in realtà è un nodo di un ecosistema, come abbiamo detto, e attraverso questo nodo passano informazioni in arrivo e in ingresso, in uscita, scusate. Quindi, il riunito potrebbe avere bisogno di informazioni riguardo l'anagrafica del paziente, i dati clinici, l'intervento da eseguire, così potrebbe predisporsi automaticamente, le preferenze del dentista, una serie di immagini, le lastre, lo stato dello studio, lo stato del magazzino, quindi potrebbe richiedere alcuni materiali o altri sapendo che ci sono in magazzino. Potrebbe sapere avere la gestione degli appuntamenti, la gestione delle telefonate, potrebbe ricevere aggiornamenti software, potrebbe a sua volta invece dare informazioni sulle condizioni fisiche del paziente, sul comfort della stanza, su come viene utilizzato, potrebbe informare se ha bisogno di manutenzione o di ripristinare le scorte e potrebbe, diciamo, aiutare l'intrattenimento del paziente. Quindi, con questo secondo passo, con questo lavoro, abbiamo, con quell'azienda, identificato, ed erano molte più di queste, in realtà questo è solo un esempio, quali fossero le informazioni, quali sono le informazioni che possono attraversare il prodotto. Tutto questo è nuovo rispetto ai prodotti di una volta, non avevano queste informazioni, non avevano la capacità di gestire queste informazioni. Ecco, uno schema interessante per gestire, per capire quali sono le informazioni, è questo. Io posso, diciamo, compilare, se vogliamo, queste tabelle, o posso anche costruire un tabellone o due a seconda dei, come lo voglio fare, e lavorare con i post-it, e pensare, per esempio, a quali informazioni lo strumento può raccogliere. Allora, prima dell'utilizzo, in tempo reale e dopo l'utilizzo, perché questo è un altro aspetto della rivoluzione dell'internet delle cose, che i prodotti, quando sono a riposo, inutilizzati, dal punto di vista del loro utilizzo principale, in realtà possono fare altre cose, possono elaborare dati, possono raccogliere informazioni, possono ricevere informazioni, aggiornarsi, eccetera, eccetera. Quindi, diciamo, bisogna allargare l'attenzione alla progettazione del prodotto, anche quando il prodotto è in stand-by, prima e dopo l'utilizzo. Quindi, quali informazioni posso raccogliere? Prima, durante e dopo, e dall'utilizzatore, dal prodotto, dall'ambiente, ma anche da più utilizzatori, da più prodotti e da più ambienti. Spiego meglio quest'ultimo aspetto. Facendo un esempio. Con un'azienda che fa macchine per piegare la lamiera, abbiamo ipotizzato di raccogliere informazioni sul risultato della piega da tutte le loro macchine diffuse in tutto il mondo. Quindi, raccogliendo una serie di informazioni di ambiente che aiutino l'utilizzatore, nelle volte successive, a impostare l'angolo di piega giusto per ottenere la piega voluta. Perché sapete che quando si piega il metallo c'è il ritorno elastico, per cui se io impongo una piega di 90 gradi, ne avrò una probabilmente di 88, 87, o qualcosa del genere, o 91, 92. Quindi, se si potesse da tutte le macchine, per tutte le pieghe che fanno, in qualsiasi posto del mondo, raccogliere queste informazioni, diciamo che le macchine stesse potrebbero imparare e suggerire all'utilizzatore qual è la correzione più adatta per poter avere il pezzo giusto, la piega giusta al primo colpo. Stessa cosa, lo stesso schema di raccolta delle informazioni è per quali informazioni posso fornire. Quindi, cosa posso raccogliere, prima, durante e dopo, e da una serie di enti, oggetti, che fanno parte dell'ecosistema, e quali informazioni posso fornire. Ecco, per fare questo, normalmente si può partire da un brainstorming con le persone, con i progettisti, il marketing, commerciali, eccetera, per cominciare a farsi questo quadro, capire l'ecosistema e capire quali sono le informazioni che attraversano un prodotto. Questo è il punto di partenza per poter creare valore attraverso l'interconnessione. Il secondo passo è quello di progettare l'esperienza di utilizzo, perché ovviamente con tutte queste nuove opportunità l'esperienza di utilizzo cambia in maniera significativa. A questo proposito, oggi il tempo è ridotto per cui non affronteremo in grande dettaglio questo aspetto, però lo affronterò io stesso in un seminario che c'è domani sulla Casa 2.0 e alla stessa ora, di cui poi nella penultima slide avrete il link, e diciamo entreremo in maggior dettaglio nell'aspetto della User Experience. In generale comunque quello che si fa per progettare la User Experience è quello di analizzare i vari passi dell'utilizzo dei prodotti e in particolare per quanto riguarda l'Internet delle cose diciamo quello che noi utilizziamo spesso è diciamo sono questi sei paradigmi, sei modi con i quali i prodotti possono diventare intelligenti e spesso diciamo le funzioni che si trovano stanno all'interno di queste sei macro aree che vengono utilizzate per diciamo come spunto per le informazioni e per la progettazione della User Experience. Allora il livello base per l'Internet delle cose per i prodotti è quello di raccogliere informazioni sul funzionamento sulla posizione lo stato e l'ambiente un livello un pochino più alto come abbiamo visto è quello dei prodotti che possono fornire informazioni quindi possono fornire suggerimenti su come utilizzare i prodotti possono guidare l'utilizzatore nel loro utilizzo quindi pensiamo per esempio al navigatore satellitare che ci fornisce informazioni su dove andare un livello un terzo livello o una terza area da esplorare è quella del comando remoto quindi accensione spegnimento e regolazione da remoto dal telefonino per esempio il termostato Nest che regola la temperatura può essere comandato dal telefonino quindi io anche dall'ufficio posso accendere il riscaldamento il condizionatore eccetera un ulteriore livello se andiamo sempre verso cose un pochino più complesse sono strumenti che imparano quindi strumenti che capiscono che cosa l'utilizzatore vuole fare qual è il loro obiettivo che imparano a comportarsi diciamo seguendo le abitudini dell'utilizzatore che non devono essere quindi configurati ma automaticamente si configurano e si adattano all'utilizzatore ulteriore livello è automatizzare i processi quindi sulla base delle informazioni e delle decisioni delle informazioni che ci sono gli strumenti possono prendere delle decisioni per non so ridurre i consumi per esempio per aumentare la sicurezza quindi in questo esempio la macchina che frena da sola se davanti trova un ostacolo l'automobile non ha bisogno che qualcuno freni ma automaticamente frena da sola il sesto livello quello più complicato è la possibilità dei prodotti di collaborare con altri oggetti intelligenti questa ovviamente è all'ultimo livello di complessità perché richiede non solo che ci sia un prodotto intelligente che sappia fare queste cose ma che ce ne siano altri e che tra di loro possano comunicare e collaborare quindi in sintesi i prodotti intelligenti possono fare sei cose o sei ci sono sei aree da esplorare per capire sei prodotti diciamo per far diventare intelligenti i nostri prodotti quindi quali informazioni possono essere raccolte dai prodotti quali informazioni il prodotto può fornire durante l'utilizzo quali funzioni io posso comandare da remoto se il prodotto può imparare che cosa può imparare quali cose può fare automaticamente sia in presenza che in assenza dell'utilizzatore e ultimo livello se il prodotto può collaborare con altri prodotti simili ecco qui c'è una domanda molto intrigante secondo me Walter chiede quanto inciderà questa intelligenza sul prezzo dei prodotti allora qui faccio un'anticipazione perché poi la vera diciamo una parte più dettagliata della risposta sarà quando parleremo del business model in realtà diciamo sul prezzo di vendita o sul prezzo di acquisto del prodotto questa intelligenza spesso inciderà abbastanza poco nel senso che quello che probabilmente succederà è che con costi molto limitati diciamo in altro modo il cliente sarà disposto a pagare molto poco per avere l'intelligenza in più il problema è che questa è una previsione di Gartner tra pochi anni i prodotti che non saranno connessi saranno snobbati dagli utenti quindi la sfida oggi per le aziende è di riuscire a introdurre intelligenza senza far crescere troppo i costi si apre però un'altra possibilità che è quella di fornire poi servizi durante l'intera vita del prodotto quindi se i clienti oggi non sono disposti normalmente poi questa cosa va ovviamente personalizzata e definita settore per settore però spesso soprattutto nel mondo consumer i clienti non sono disposti a pagare molto di più però magari sono poi disposti a comprare dei servizi a pagare 10 centesimi 5 centesimi 1 euro ogni volta che eseguono in qualche modo una transazione attraverso il prodotto e questo è il cambio di business model di cui inizieremo a parlare adesso se ci sono altre domande nel frattempo mi 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 fai piacere rispondervi quindi abbiamo detto che dopo aver definito l'ecosistema dopo aver capito quali sono le informazioni che possono transitare attraverso un prodotto bisogna esplorare le aree che sono diciamo quelle che possono rendere intelligenti i nostri prodotti e che io direi in una buona maggioranza dei casi possono essere queste sei che abbiamo appena citato una volta capito che cosa potrei fare come potrei diciamo creare valore con un prodotto che impara con un prodotto che può fornire più informazioni all'utilizzatore o che può raccogliere e archiviare informazioni dall'utilizzatore devo iniziare a muovermi per capire con quale business model allora Alessio Mereu chiede anche nel B2B il cliente non è disposto a spendere per avere prodotti intelligenti qui non è detto nel senso che se si riesce a dimostrare per esempio che questo è uno dei settori anche più esplorati finora che tramite il prodotto intelligente diminuiscono i costi di manutenzione o diminuiscono i rischi o aumenta la produttività quindi se riesco a fare un conto in qualche modo per dire ti faccio pagare il prodotto un po' di più però poi la manutenzione mi risparmi x euro all'anno i rischi ti si riducono eccetera a volte o spesso i clienti B2B sono disposti a spendere un po' di più nel B2B nasce a volte invece un altro tipo di problema che è quanto il cliente si fida di queste nuove funzionalità io sto lavorando con un'azienda nel settore una multinazionale molto grande che lavora nel settore dei trasformatori per le centrali elettriche e lì loro avrebbero delle idee per diciamo interconnetterli tra di loro migliorare la manutenzione eccetera eccetera però diciamo i vari provider di energia fino a che queste cose non le sentono veramente molto sicure e stabili che non inficciano la sicurezza della rete fanno fatica ad acquistarle in altre parole non le vorrebbero nemmeno gratis neanche per provarle diciamo perché temono che possano essere fonte di problemi quindi se nel B2C generalmente pensare a un qualcosa di intelligente per il consumatore finale diciamo è una figata nel B2B non è detto che sia così e quindi il valore va da un lato dimostrato e va dimostrato che non c'è il rischio per chi lo utilizza ok grazie intanto per queste domande passiamo al discorso del business model allora quello che sta succedendo è che anche prima dell'internet of things diciamo è un fenomeno che viene chiamato servitization che vuol dire che i prodotti in qualche modo si confondono sempre di più con i servizi o addirittura si trasformano in servizi quindi si passa da quello che in questa slide è a sinistra compro un prodotto poi compro un servizio come add-on al prodotto la garanzia la consegna a domicilio eccetera poi passo a un livello successivo di servitization compro un qualcosa che mi dà servizi e prodotti insieme esempio classico compro diciamo un servizio un prodotto con la manutenzione integrata o con il training integrato addirittura con qualcuno che me lo gestisce in maniera autonoma compro il prodotto come una donna quindi questo l'esempio qui è delle aziende di provider di comunicazione che ti danno ti vendono il servizio ti vendono il telefonino come una donna oppure compro direttamente un servizio nel caso della mobilità per esempio qui mi abbono a un car sharing non compro più la macchina ma mi abbono a un car sharing ecco questo è un fenomeno la servitization che sta avvenendo in tutto il mondo da vari anni per diversi motivi qui li ho un po' raggruppati secondo tre macro aree anche qua economica strategica e ambientale dal punto di vista economico diciamo i margini sui prodotti sono sempre più ridotti e quindi le aziende in qualche modo si inventano si sono inventate si stanno inventando di fornire dei servizi per aumentare il profitto per sostenere la propria crescita il proprio profitto altra cosa importante i flussi di profitto derivanti dai servizi sono diversi rispetto a quelli dei prodotti che sono transazioni singole quindi se io riesco a vendere per esempio degli abbonamenti ho dei fatturati molto più stabili nel tempo e questo in un periodo di crisi di mondo liquido eccetera avere dei fatturati stabili è sicuramente una cosa importante dal punto di vista strategico andare verso i servizi quindi inglobare nei nostri prodotti intelligenti i servizi può migliorare la customer satisfaction sicuramente permette all'azienda di raccogliere più informazioni sui clienti di migliorare la relazione con il cliente di bloccare di fidelizzare il cliente e di differenziarsi dai concorrenti quindi il fatto di utilizzare l'intra delle cose i servizi il software l'intelligenza mi permette di differenziarmi molto rispetto ai concorrenti anche in settori torno all'esempio di prima dei trasformatori i trasformatori sono un settore dove il progresso diciamo è terminato con la fine dell'ottocento le leggi fisiche sono quelle le cose diciamo i materiali sono quelli adesso non è ancora stato fatto un grosso salto quantico verso trasformatori elettronici o materiali particolarmente innovativi per questi trasformatori grossi diciamo non c'è molto da dire dal punto di vista del meccanico mentre invece sarebbe opportuno sarebbe possibile differenziarsi utilizzando sempre di più i servizi in più c'è un'altra cosa molto importante che diciamo dal punto di vista ambientale la crescita economica che è quella che fa stare tutti meglio diciamo sicuramente non può essere sostenuta soltanto con la produzione di nuovi prodotti mentre diciamo la produzione dei servizi può essere più diciamo più sostenibile per l'ambiente quindi quando si pensa a un prodotto intelligente interconnesso bisogna pensare anche ai servizi che il prodotto diciamo va a erogare in qualche modo quindi bisogna pensare a un'offerta in cui ci siano insieme i prodotti e i servizi ecco un modo molto concreto molto efficace per definire il business model per andare a cambiare il modello con cui si propone si scambia valore con il mercato è questo che è chiamato il business model canvas è stato definito da un signore che si chiama Oster Walder è uno svizzero trovate molte informazioni sul business model canvas su internet se vi interessa e diciamo quello che noi normalmente facciamo quando andiamo in un'azienda che vuole introdurre un prodotto intelligente un prodotto interconnesso è quello di riempire per quel prodotto tutti i campi del business model vado abbastanza velocemente ma li volevo vedere più o meno tutti allora ci sono diversi modi di utilizzare il business model canvas quello che a me piace di più è quello di partire dalla value proposition quindi avendo capito avendo analizzato la user experience nella fase precedente andiamo qui a definire quali sono gli elementi di valore qual è il valore che noi possiamo proporre al cliente con il nostro prodotto intelligente fatto questo diciamo le altre le cose più importanti da definire sono come faccio qual è la mia struttura dei costi e qual è la mia struttura dei guadagni dei profitti fondamentalmente questo perché perché molte volte o direi praticamente sempre quando si parte da un'azienda manifatturiere da un prodotto che quindi viene venduto con una transazione singola e che finisce lì al massimo c'è la garanzia diciamo quando invece c'è l'intelligenza a bordo del prodotto la struttura dei costi cambia io ho lavorato con un'azienda che voleva produrre un termostato intelligente simile a quello Nest prodotto in America e per loro l'elemento principale di incertezza non era dal punto di vista tecnico come lo faccio se lo faccio sarà bravo a imparare eccetera ma poi il costo di raccogliere questi dati e di gestirli chi lo paga e come me lo pagano quindi qual è la mia struttura dei costi associato a quel termostato io sicuramente devo metterci un software devo metterci un'infrastruttura dati che raccoglie questi dati e che li elabora e li restituisce in qualche modo all'utilizzatore quindi ho dei costi ricorrenti negli anni futuri che mi impegno a pagare nel momento in cui il cliente mi compra il prodotto e a fronte di questi costi quello che è altrettanto importante è come faccio a guadagnare come faccio a ripagarmi questi costi e a guadagnare da questo prodotto posso vendere nel caso del termostato posso vendere il termostato a un prezzo che includa per esempio i primi cinque anni di elaborazione dati e dire ti garantisco questa cosa per cinque anni e poi il termostato lo butti oppure posso vendere il termostato a pochi soldi e vendere alle persone un abbonamento dire però tu mi devi pagare x euro ogni anno per la gestione dei dati potrei addirittura arrivare all'estremo opposto ti vendo solo l'abbonamento ti regalo il termostato così ogni tre anni cinque anni quando ci saranno delle evoluzioni tecnologiche tu sai che avrai sempre un termostato aggiornato però mi dai le informazioni e mi paghi ogni mese ogni anno perché io ti gestisco e ti elaboro le informazioni quindi la struttura dei costi e la struttura dei ricavi cambia in maniera assolutamente importante e significativa questo è un tema che le aziende devono affrontare con molta attenzione lo vedremo meglio alla fine ma lo anticipo adesso il processo di servitization e quindi alla fine l'introduzione di prodotti intelligenti è un processo che nel passato si è rivelata la servitization si è rivelata molto rischiosa per le aziende perché cambia la struttura dei costi e succede che alcune aziende non siano state capaci di fare la trasformazione dal punto di vista finanziario e siano addirittura fallite quindi la trasformazione da azienda manifatturiera ad azienda di servizi è una trasformazione che sarà probabilmente necessaria per molte aziende ma che deve essere fatta con molta attenzione le elezioni che ci vengono dal passato sono che diciamo sono fallite soprattutto le aziende che hanno proposto molti servizi e servizi non particolarmente intelligenti e avanzati quindi la manutenzione l'affitto invece della vendita eccetera mentre aziende che sono riuscite a colpire il bersaglio creando servizi ad alto valore aggiunto per il cliente quindi torniamo se vogliamo alla value proposition quelle aziende con la servitization invece si sono diversificate e hanno creato un grandissimo valore quindi l'attenzione proprio è quella di capire qual è la value proposition sul discorso tornando diciamo al business model e alle aree principali diciamo dopo aver capito come cambia la struttura dei costi e la struttura delle revenue è probabilmente importante andare a definire con quali partner andare a realizzare il prodotto intelligente perché diciamo spesso le aziende manifatturiere non hanno la capacità informatica o l'infrastruttura informatica per gestire tutti i vari dati in particolare sicuramente o quasi sicuramente si porrà il problema di scegliere una piattaforma dove depositare e far gestire questi dati ed eventualmente di scegliere un protocollo che permetta la raccolta e l'elaborazione di questi dati quindi questo è il minimo a volte addirittura aziende manifatturiere diventano partner di aziende che producono software a questo proposito vi volevo ancora raccontare come in un settore particolare il mercato si è evoluto negli ultimi cinque anni allora il settore è quello dei rulli per l'allenamento dei ciclisti cinque anni fa io ho fatto uno dei primi progetti miei almeno sull'internet delle cose e diciamo il mercato era tipicamente il ciclista si comprava il rullo poi diciamo un paio d'anni dopo quindi tre quattro anni fa circa il ciclista diciamo nella sua scelta di quale rullo acquistare valutava se il rullo era intelligente se era collegato a internet se poteva raccogliere i dati eccetera eccetera oggi succede il viceversa il ciclista compra la app per l'allenamento e poi compra un rullo che sia diciamo compatibile utilizzabile con quella app quindi un'azienda con la quale io ho lavorato che era se soltanto meccanica diciamo ha dovuto costruirsi una partnership con un'azienda di software per costruirsi la propria app ma adesso deve costruirsi delle par e sta già facendo l'ha già fatto si sta costruendo delle partnership con i costruttori di app per poter vendere i propri rulli quindi l'internet delle cose ha richiesto addirittura appunto una modifica delle partnership tra aziende in maniera significativa perché il mercato proprio ha cambiato il suo punto di vista dal scelgo un prodotto a scelgo una app e compro un prodotto compatibile questo è già successo in questo settore che vi dicevo dei rulli per l'allenamento dei ciclisti ma succederà sicuramente anche in molti altri settori vedo una domanda noi servizi abbiamo fatto così con i nostri nuovi partner manifatturieri mi sa che sono arrivato un po' in ritardo non so più così che cosa con i partner manifatturieri comunque è chiaro questo da un punto di vista dei servizi ovviamente le aziende di servizi costruiscono partnership partnership con le aziende di prodotto ecco dopo aver pensato a questi aspetti assolutamente fondamentali quindi la value proposition la struttura dei costi e dei ricavi e i partner l'altro pezzo fondamentale del business model canvas è sicuramente la relazione con i clienti qui anche qui c'è una rivoluzione importante nel senso che se oggi chi vende i prodotti magari ha anche la catena distributiva lunga li vende a un distributore che poi li rivende al dettagliante che poi li rivende all'utilizzatore finale e l'azienda che produce i prodotti non sa nemmeno chi sia l'utilizzatore finale domani con l'internet of things ci sarà un cortocircuito di tutta questa catena e l'azienda potrà entrare in collegamento in connessione diretta con il suo utilizzatore quindi potrà raccogliere più dati questo è un valore ma dovrà anche essere in grado di fornire servizi e valore aggiunto 24 ore su 24 in qualsiasi posto del mondo il cliente si trovi a utilizzare il prodotto quindi l'azienda dovrà trasformarsi modificare la propria struttura per essere in grado di gestire questo tipo di relazioni per sapere cosa fare dei dati che raccoglie io ho lavorato con un'azienda che produce macchine utensili e hanno detto beh intanto mettiamo la scatola nera sulla macchina che raccogliamo informazioni poi dopo vedremo che cosa che cosa farcene in realtà anche questa è una scelta che costa praticamente zero farlo e quindi diciamo ha un suo valore però poi bisogna anche iniziare a pensare a cosa fare con queste relazioni quindi l'azienda costruisce costruirà delle relazioni con i clienti molto più strette e anche qua per le aziende che hanno le catene lunghe io ho fatto per esempio un lavoro con un'azienda che arriva all'utilizzatore finale attraverso le farmacie ovviamente ci sarebbe la possibilità di fornire servizi direttamente dall'azienda all'utilizzatore finale perché i dati li raccoglie fondamentalmente li raccoglie l'azienda produttrice ma loro dal loro punto di vista nel loro modello di business hanno voluto includere il farmacista perché il farmacista diciamo avesse ancora più voglia di comprare i loro prodotti invece che quelli dei concorrenti perché il loro cliente in realtà diretto è il farmacista quindi a volte succedono cose del tipo l'azienda raccoglie i dati dell'utilizzatore finale e li mette a disposizione di un farmacista in questo caso di qualcuno che sta nella catena di distribuzione più vicino al cliente il quale a sua volta possa proporre dei servizi ad alto valore aggiunto ai clienti finali questo permette all'azienda di mantenere buone relazioni con i suoi clienti diretti e anche diciamo elimina la necessità di avere una di avere una struttura che vada in tutto il mondo per fare l'erogazione dei servizi ok nell'ultimo minuto velocemente direi la cosa importante da capire è appunto con i prodotti non connessi la transazione d'acquisto il prezzo è qualcosa che spesso è one shot invece con i prodotti intelligenti e connessi c'è forse un prezzo one shot ma poi anche un qualcosa che continua diciamo un flusso di profitto che continua nel tempo ci sono diversi modi di costruire il prezzo e diciamo mi soffermerei soprattutto su quelli progressivi che sono quelli che sono caratteristici dell'inter delle cose gli altri valgono anche per tutti i prodotti quelli principali sono una flat rate quindi pago un total mese un total anno il leasing che include la vendita del prodotto diciamo progressiva oppure un pay per use o un pay per result il pay per use è una cosa ovviamente molto diffusa adesso per esempio nelle auto in cui con il car sharing ognuno può prendere l'auto e pagare solo per quanto la usa oppure un pay per result un'azienda che produce macchine utensili può dire tu non mi paghi più la macchina in sé ma mi paghi per ogni foro che fai per ogni piega che fai per ogni lavorazione che riesci a concludere quindi diciamo il tema di definire un prezzo progressivo richiede da un lato di capire come e che cosa il cliente è disposto a pagare e dall'altro probabilmente di introdurre anche dell'hardware del software specifici sulle macchine per esempio c'è un'azienda del Trevisano che ha creato delle centraline intelligenti da inserire sulle auto per poter fare il pay per use per sapere lo stato dell'auto eccetera per poter fare eventualmente anche delle piccolissime aggiustamenti da remoto e quindi queste centraline possono essere montate sulle macchine e automobili già esistenti questo evidentemente diciamo è un e questa azienda ne sta vendendo un sacco in questo momento perché è una delle cose che va molto forte adesso vedo un'altra domanda per quanto riguarda privacy e gestione dei dati raccolti verso che strada si andrà ci sono delle fonti da prendere come riferimento allora bisogna sicuramente chiedere l'autorizzazione alla gestione dei dati personali è ancora molto complessa questa cosa io non sono un esperto sinceramente perché le legislazioni variano anche a seconda delle aree geografiche e spesso quando si parla di prodotti intelligenti si parla di prodotti che vanno che vanno in tutto il mondo quello che diciamo spesso si fa è di raccogliere questo consenso direttamente da internet da un portale da dove qualcuno si registra diciamo registra il prodotto e si possono utilizzare degli algoritmi per spersonalizzare i dati quindi io non so come si chiama la persona che sta utilizzando il mio prodotto ma al massimo so dove abita per esempio oppure addirittura potrei non sapere dove abita e avere solo una macro zona geografica quindi diciamo c'è la possibilità di elaborare i dati perdendo via via la definizione specifica di chi è l'utilizzatore in modo che è comunque utile per diciamo sia per l'azienda sia per fare prodotti che imparano ma è un pochino meno invasivo dal punto di vista della privacy comunque questo è uno dei temi importanti e già che stiamo citando questo tema importante l'altro tema assolutamente importante è quello degli hacker e della protezione da violazioni di accesso non volute perché se pensiamo che gli hacker possono entrare nella nostra macchina dove quando stiamo guidando nel nostro letto nella nostra cucina nel tostapane eccetera questo è un problema forse ancora più grosso per l'utilizzatore finale almeno di un hacker che entra nel computer insomma entra in maniera più invasiva nella vita privata questi sono dei problemi tecnici che ovviamente vanno risolti non vanno sottovalutati stanno parzialmente frenando lo sviluppo dell'Internet of Things però da quello che io vedo anche dall'interesse che vedono le aziende ce n'è diciamo l'Internet of Things si sta sviluppando a una velocità inimmaginabile fino a un paio di anni fa quindi c'è veramente il rischio che Gartner diceva già 4-5 anni fa che chi non ha prodotti interconnessi rischia di essere di uscire di uscire dal mercato ecco adesso ci sarebbe l'ultimo facciamo velocissimamente l'ultimo sondaggio e poi chiudiamo il diciamo il seminario finché voi votate scegliendo diciamo scegliendo una delle risposte disponibili faccio velocemente un riassunto di quello che secondo me è importante portarsi a casa da questo seminario primo l'Internet delle cose è un cambiamento importante di paradigma cioè la dimensione sociale l'ecosistema e la dimensione sociale degli oggetti e il fatto che gli oggetti diventano al centro di un flusso di informazioni questa è la rivoluzione più importante quindi il primo passo è quello di costruire l'ecosistema è capire quali sono le informazioni che possono attraversare un oggetto poi è importante capire che ci sono dei paradigmi già utilizzati di riferimento tipo la raccolta dati il telecomando la macchina che si guida da sola eccetera quindi l'automazione dei processi che possono essere esplorati per capire dove creare valore per i propri clienti infine l'informazione fondamentale che o la considerazione fondamentale è che introducendo l'internet of things cambia il modello di business quindi cambia il modo di fare i prezzi cambiano le spese cambiano i partner e cambia la relazione con i clienti quindi cambiano tantissime cose e di tutto questo tutto questo va pensato a priori prima di iniziare ad affrontare dei problemi tecnici ecco questo era il riassunto ho i risultati del sondaggio e sono contento perché il 61% dice che sta già innovando nel modo di definire i prezzi rispetto ai concorrenti perché questo è sicuramente un modo importante per innovare e per differenziarsi dai concorrenti utilizzare strategie diverse di di prezzo ecco io su questo mi fermo salto la prossima slide le prossime slide velocissimamente diciamo costruire una roadmap quello che si deve fare è pensare a una roadmap suddivisa per prodotti da sviluppare e servizi da sviluppare e identificare diciamo mese per mese o trimestre per trimestre nel futuro in un futuro abbastanza lungo un anno due anni addirittura forse anche di più potrebbero essere quali sono i prodotti o le funzionalità da introdurre quali saranno i servizi da introdurre ecco quando un'azienda comincia ad avere una roadmap di questo tipo vuol dire che si sta avviando in maniera decisa sulla strada dell'internet of things ed è fondamentale proprio per la strategia aziendale eccetera aver costruito una mappa di questo tipo di riferimento una roadmap molto macro mesi come scala temporale o addirittura trimestri e identificare quali sono i prodotti e i servizi che dovranno essere rilasciati nei vari momenti ok eccolo qui volevo solo ricordarvi che domani sera io ancora parlerò di questo di questo tema diciamo da un punto di vista un po' diverso fare business con la casa 2.0 e approfondiremo sia i paradigmi diciamo le opportunità le aree diciamo come rendere intelligenti i prodotti sia poi il processo di utilizzo della user experience legato al mondo del domestico ma che in realtà poi le tecniche possono essere utilizzate anche al di fuori di questo e racconterò di un progetto che abbiamo fatto che si intitola Smart Windows abbiamo cercato di costruire ideare perlomeno una finestra intelligente ecco se qualcuno di voi volesse contattarmi il modo più facile è una mail a maurizio.scabbia chiocciola gmail.com mi trovate anche su linkedin se volete mi farebbe piacere ricevere vostre domande vostri feedback continuare in qualche modo questa questa discussione ok sono passati già nove minuti oltre il link a